Iniziamo a scaldarci, giriamo le spalle all'indietro, tre, quattro, fatica da 1, 10, fatica fatica tanta, perché le pattine sembrano così ma sono faticose, 2 e 1, va tutti e le pattine tutti sanno usarle, 2, se volete le lascio anche portare a casa. Ancora 4, 3, 2, 1, stop, qui le braccia stingo, stingo, lato, 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 2, 3, 4, 5, le spalle rimangono ferme, non scendono, parallelo al terreno, è solo il busto che si sposta di lato lato, lato, 2 e 1, flessione laterale, giù e giù, 2, 3, Mattiere e Maria Pia, perché non venite poi fino a gennaio, mica potete vigiare tutto dicembre? 3, 2, e 1, qui, e quindi? il corpo deve essere fanno, non può essere asciaccato per Natale, 4, 3, 2, 1, fermo il bacino ancora, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, blocchiamo e giro, 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 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, ancora 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, stop, piccoli scuoti, piccoli piccoli, 2 al centro, 2 di lato, 2, 2, 1, e 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, mi fermo qui, dondolo da una parte all'altra, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, piego di più e vado indietro sui butti, 1, 2, 1, 2, piano piano, 3, 4, 5, 6, 7, 8, mi fermo la ginocchia, alti, qui, porti una spalla al ginocchio e posto e al cerro, 1, 2, 1, 2, tiro, tiro, 3, 4, 5, 6, 7, 8, stop, avvicino un pochettino le gambe, dietro le braccia, su e su, 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 slancio e giù, slancio le braccia, avanti e indietro, su, 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 ancora 4, su, 3, su, 2, su, 1, stop, Allora, prendiamo le pattine, solo una, la mettiamo su un piede, sotto un piede, uno squat più uno slide laterale, quindi squat, su, squat, su, su, giù, Chiaramente il peso rimane sulla gamba che non ha la faccina, su, giù, e giù, qui, giù, su, giù, 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 sembra una stupidata, non sembra, eh? Cambio forte, cambio gambetta, vedete per far giù le braccia potete anche non bloccarla, tanto non scappa da nessuna parte, su, giù, qui, giù, 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 su, non è divertente? Su, giù, su, giù, dopo la terza è sicuro che mi tremeranno tutte le gambe. Giù, su, e su, giù, su, schiacciate con la gamba di terra. Su, giù, su, tutte le tassine questa volta. Ci siediamo. Ponte in verso, non riesci? Apro una, torno, apro l'altra, torno. Qui. Contrati i glutei. Su, bene. Su, su, e apro, chiudo, apro, chiudo, su. Su, su, i glutei alti. Su, glutei alti. Su, su, in stop. Questa volta, in verso. Da qui, apro e chiudo. Apro, chiudo. E' divertentissimo. Apro, chiudo. E' divertentissimo. Apro e chiudo. Non vi piace? E' bellissimissimo. Apro e chiudo. Apro e chiudo. Da plank. Apro e chiudo. Stop. Torniamo su. Sempre una pattina e basta. Reverse lunge. Scivolo. Stando. Scivolo. Su. Scivolo. Su. Scivolo. E scivolo. Su. Scivolo. Giù. 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 Questo è normale. È confronto gli altri. Giù. Non riesci neanche con le plank, da immobile. Cambio. Giù. Su. Al massimo fai addominali e cinza. Scendo. Su. Giù. E piena dritta. Su. Giù. Qui. Giù. Qui. Giù. 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 Mi raccomando, scivolate, scivolate. Pulite bene il pavimento. Stop. Tappetino. La cinza farà gli addominali. Noi invece facciamo il cobra. Da qui. Usando i dorsali, salgo, i rombali e scendo. So. E giù. So. Giù dei contratti. So. E su. Se vi esce più comodo, però non credo, potete usare anche l'avambraccio tutto. Su. E su. Spattina i piedi e ginocchia ai gomiti. Siccome da qui. Lì. Giù. Lì. Giù. Lì. Giù. Lì. Giù. Lì. Giù. Ricordatevi che dovete sempre scivolare. Senza perdere la pattina. Lì. Giù. Lì. Senza tu fai addominali. Addominali. Qui. Stop. Torno su. Sotto tutti i tuoi piedi. Da qui. Scendo. Salgo. Scendo. E per salire. Pinguino. Giù. E su. Giù. E su. Giù. Questo qui serve per gli adduttori. E giù. Tiro, 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 tiro. Giù. E su. Giù. Su. Giù. Su. E giù. Su. Ritorno a terra. Questa volta sempre. Sotto i piedi. Ancora qui. Singolo. Singolo. Come quello di prima ma singolo. Su. 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 Mi raccomando glutei contrattissimi. Su. Su. E anche i femorali. Cambio. O. Su. Singolo. Sui glutei. Su. Su. E. Su. Su. Per. Su. 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 Dopo. Dopo ti sfogli. Su. 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 Su bene i glutei. Su. 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 Dai dai che sono solo pochi secondi ancora. Stop. Ritorno. Solo. Una pattina. Facciamo una. Affondo in avanti. E un affondo indietro. Avanti. E indietro. Questo è divertentissimo. Avanti. E indietro. Avanti. Vietro. Vietro. Avanti. Vietro. Avanti. Vietro. Avanti. Su. Avanti. Ci sono. E cambio. Già finito purtroppo. Avanti. Scendo. Avanti. Scivolo. Scivolo. E riscivolo. Scivolo. Vi vedo un po' in difficoltà. Come non scivolano bene? Dovrò acquistare anche la cera. Scivolo. Giù. Giù. E stop. Questa volta. Questa volta. Ponte. Da qui. Uno. Torno. Solo uno. in avanti. In avanti. E. 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 Qui. Lì. Spingo. Spingo. Sui glutei. Su. 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 E. Spingo. 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 continuo. Continuo. Cambio parte. Spingo. Ho perso la pattina. Spingo. E. Lì. Qui. Su. Spingo. Ancora lì. Spingo. I glutei non cascano. Lì. Il secondo giro lo facciamo un po' diverso per la cinzia. Spingo. Perché sennò fa troppi addominali. Continuo. No. Povera cinzia. Lì. Su bene i glutei. L'ultimo. Ginocchia al petto. Tutte e due assieme. Da qui. Setto. Torno. Setto. Torno. Setto. No. Questo non riesci. Torno. Setto. E il prossimo giro. Setto. Torno. Setto. Torno. Setto. Torno. Setto. Lì. Setto. Cerco. Torno. Setto. 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 Top. Finito. Il primo giro. Come va? Benissimo. Secondo giro lo cambiamo un pochino così la cinzia fa qualcosa in più poverina. Eh no, vabbè, ma mi spiace. Vuol dire che faremo un pochettino più gambe. Tanto sono tutti i correnti, eh, Cinzia. Avrebbero fatto una piscine, comunque. Per la prossima volta devo acquistare la cera. Lato. Lato. Su. Su. Lato. Su. Lato. Su. Lato. 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 Su. Lato. Qui. Lato. Su. Lato. Qui. Lato. E ancora. Giù. Su. Giù. Qui. Piego. Su. Piego. Mi tiro su. Cambio. Va. Scendo. Su. Scendo. Su. Scendo. Moreno sorride. Sta già pensando anche lui di farle a casa le pastine. Su. Me le vuole rubare. Posso vendere il brevetto. Dai. Non mi fermo. Su. 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 No. Io lo faccio. Certo. È il lavoro di un'estate. Veramente. Non questa. L'estate è passata. Tutte due le pastine. Sotto i piedi. Apre e chiudo. Questo mi piace. Cinzia non lo sostituisco. Dopo però ne faccio uno che puoi fare anche tu. Apre e chiudo. Questo è troppo divertente. Apre e chiudo. 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 talloni e glutei. Torno e glutei. Torno e scendo. Su. Talloni e glutei. Torno e scendo. Su. È faticosissimo. È da crampo. Su. Taloni e glutei. E giù. E giù. Questa volta. Solo su. Ponte. Sposto una gamba. Apre e chiudo. Avanti e indietro. E mi fermo. È quello che vi ho fatto prima ma non ne ho appoggiato sulle braccia così almeno la finca lo può fare. Apro. Avanti e indietro. Veloci. Uno. Due. Tre. Quattro. Cinco. Sei. Sette. Occio. Occio. Sette. Sei. Cinque. Quattro. Tre. Due. Ancora. Veloci. E stop. Cambia la metta. Vado. Avanti e indietro. Stende piego. Stende piego. Stende piego. Lavoriamo in isometria con una gamba. Con la di terra. Scivolo scivolo. Scevolo. 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 Ci siamo quasi. Stop. Da qui semplicemente crunch. Salo e scendo. Solo crunch. 45 secondi. Sto descendo. Su. Non mi fermo. E stop. Ritorniamo in piedi. Questa volta. Reverse crunch. Quindi dai in piedi. Indietro. Salvo. Giù. Su. Giù. Su. Giù. Qui. Giù. Su. Solo dietro. Giù. Su. Giù. E. Samara è avanti perché me lo fa anche avanti e indietro. Invece no. Solo indietro. Ma ora. Solo indietro. Dopo lo facciamo anche avanti. Giù. 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 Questo serve tantissimo per i glutei. Questo è un pre-prova costume. Bene. Anche per chi va alle terme va bene. No. Tira tutto. Perfetto. Giù. 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 E. Non ho capito. I carabie a gennaio. E. Farebbe andare. Ah però se andate ai carabie a gennaio dovete venire anche a dicembre. Perché siete impreparate adesso per la prova costume. Stop. Sassatino. Lasciamo guarda di prima che mi piaceva tanto. Da chi? Stop. 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 Precipiti lombari e dorsali. Su. 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 Anche i glutei rimangono belli e contratti. Su. Su. E su. Mi facci impianti ancora. Ci mettiamo a pedalare. Chi vuole con le bravi. Così in appoggio puoi stare. Puoi stare con i gomiti in appoggio. Semplicemente pedalo. Ampio. Ampia la pedalata. In modo che gli addominali lavorino bene, bene, bene. Siamo. In modo che gli addominali lavorino bene. Super. Verra. E stop. Riway. Ritorno. Squish. 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 scendo, 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 su, scendo, su, scendo, su, scendo, su, Uganda, eh alcuni scendo riscucchio giù su 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 giù su su anche questo è divertentissimo cambio avanti e indietro giù giù avanti dietro avanti dietro avanti giù avanti giù avanti dietro avanti giù avanti mi raccomando attenzione a non sbilanciarli troppo giù 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 cambiosi avanti giù avanti giù avanti giù avanti giù qui dietro avanti giù 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 qui perché anche questo mi piace troppo apri chiudo sui glutei sui glutei dai qui 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 su a terra per la cintia un po' di addominali tallone al ginocchio e e gomito al ginocchio opposto su 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 stop recupero un minutino allungo e ci prepariamo per l'ultimo giro tutto bene? si nessuno parla più ma dai che non è faticoso non è faticoso eh non ho neanche i capelli raccolti passa veloce un minutino vuol dire che dovete alzarvi si è già arrivato lato su lato su lato 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 la gamba piegata è l'altra quella che mi sposta su 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 cambio va giù 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 su e su vedrete che domani mi penserete se non altro per la simpatia degli esercizi su 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 ti Tiro! 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 Su! 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 Patina tutto tutto per i piedi, apprezzato dalla plank! Che sia plank però eh! Non voglio vedere glutei in alto! Voglio vedere glutei in basso! Tiro! 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 Apri e chiudo! Apri e chiudo! Postate il peso del corpo sulla braccia! Addominali contrasti! Apri e chiudo! Dai dai! Tiro! Tiro! Da qui! Perdo sui talloni! Avvicino i talloni ai glutei! Torno e giù! Su! Qui! Torno! Su! Su! Qui! Lavoriamo tanto tanto con i femorali! Su! Qui! E! Su! Qui! E! Su! Qui! Torno! Giù! Ponte! Lo facciamo con i talloni questa volta al ponte! Ok? Un single leg! Quindi uno lavora e l'altro tiene la posizione! La! Fingo avanti! E! Due! Tre! Veloci! Quattro! Cinque! Sette! Sette! O! O! Sette! Sette! Cinque! Quattro! Tre! Due! Il moreno vuole andare più veloce! Ancora più veloce! Allora! Vedo! Lo vedo con l'angolo dell'occhio! Veloci! 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 Spingo! E cambio! Ricordate il peso sul tallone! Così lavoriamo con glutei e femorali! Spingo! 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 Veloci! Spingo! 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 Veloci! Spingo! 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 Spingo Arrivo scivolo, giù, giù, cambio, qui, giù, 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 la maria pia, spinge qui, giù, giù, ah no ho capito non è che spinge e si tira su con tutte e due le braccia, su, 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 bobra! Sì, giù, 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 gi su, 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 si bicicletta, rigiro, bicicletta, bicicletta, cedasa ampia pedalo, pedalo e sto in piedi passo del pinguino scendo salvo scendo 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 proviamo a farlo in un suo colpo senza saltare dovete scivolare è divertentissimo anche stare in un colpo da qui girate indietro dobbiamo fare apri chiudo apri chiudo su bene qui glutei vedi Maria Pia ci siamo quasi top da qui in piedi ancora avanti dietro giù e qui giù e lì avanti avanti giù avanti giù e giù 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 Non vi ho neanche fatto saltare. Moreno! Brucia, ma non importa. Fai finta che non bruci. Guarda il tonato. A terra. Apri e chiudo. Moreno! Questo qui è un recupero, eh. Come non ce la fai? Sei venuto lunedì? Sarai mica stanco da lunedì. Perché sennò mi preoccupo, eh. Devo farmi dire come fa la Steffi. Apri e chiudo. Stop! Piede a terra. Abbiamo finito. Allungo le gambe. Allungo le braccia. Scuoto le gambe. Shaker, shaker, shaker. E stop! Sporto le ginocchia al petto. Allungo le braccia. gambe a destra senso a sinistra salgo cambio centro ginocchio al petto donno sulla schiena e che cedo com'è? ma dopo domani dopo domani è un prefettivo anche se siete un po' ciutate per niente no? l'importante è essere brillanti quando si va a lavorare pian piano sbrotolo la schiena giro le spalle poi se nel weekend si è un po' malatticci anticipa niente respirone e giù l'ultimo e poi tutto giù bravi grazie grazie a tutti